Intervento dei Vigili del Fuoco di Castellamonte e Rivarolo Canavese, Ivrea, Autoscale e Carrofiamma Nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre, intorno alle 14.30, in strada Bayro d'Alie. Le fiamme sono divampate nella camera da letto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa di San Giorgio Canavese e i carabinieri di Aglie. Rimasto intossicato per aver respirato i fumi un uomo anziano che è stato ritrasportato in ospedale a Cirie. I Vigili del Fuoco hanno domato e spento le fiamme prima che si estendessero ad altri locali della casa. Pare che la scintilla sia partita dal cortocircuito di una lampada, ma le certamenti sono in corso. I Vigili del Fuoco